Avevi ragione, sindrome da dei scienze del canale semicircolare superiore, pagina 162, sei forte. Metto via queste e andiamo da giù. Lexi. Io sono ancora innamorato di te. Ho cercato di farmela passare, ma non ci sono riuscito. Sloane è andata via. Non c'è più il bambino. E non voglio andare a letto con chiunque. Voglio un'altra chance. Sono innamorato di te. Crepe. Mark, io ho un fidanzato. Lo so. Ti sto dicendo che potresti avere un marito. Forse più cerchiamo e vogliamo uno stato di beatitudine, più questo desiderio ci confonde. Sei pronta? Sì. 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 Grazie a tutti.